Bomba di gossip per tutti gli amanti di uomini e donne. Federica Beninca, che avete sicuramente ricordato per aver infranto cuori durante la sua carriera da corteggiatrice per Marco Cartasegna. Ha avuto un compleanno piuttosto speciale quest'anno. Vi ricordate di quando la Beninca ha catturato il cuore di Cartasegna nel popolare dating show di Maria De Filippi? Ma, ahimè, la loro storia d'amore non ha vissuto l'eternità che noi fan speravamo, dato che il loro legame si è dissolto appena due settimane dopo aver lasciato lo studio. Ma non preoccupatevi, i cuori infranti si rimettono insieme. Federica ha ritrovato la felicità nell'abbraccio di Ettore Gliozzi, calciatore affascinante con cui ha dato alla luce una dolce piccola bambina, Arianna, otto mesi fa. E per rendere il tutto ancora più dolce, Gliozzi ha avuto un'idea davvero strabiliante per il compleanno di Federica. Quale modo migliore per celebrare il ventottesimo compleanno di Federica che con una proposta di matrimonio? Ebbene sì, lo avete sentito bene. Gliozzi ha deciso di fare il grande passo e chiedere alla sua amata di sposarlo durante la sua festa di compleanno, davanti a una folla di parenti e amici. E naturalmente, la risposta è stata un sì lacrimoso ma gioioso. I fan, chiaramente in estasi, hanno inondato la coppia di auguri e congratulazioni. Continuate a seguire per tutti i succosi dettagli su questa storia d'amore da reality show a fiaba romantica.